Tu che sei un papà, sai quanto è complicato mandare avanti una famiglia. E in tante parti del mondo è ancora più difficile. Spesso bisogna diventare dei super papà per far fronte a tutto. Ma anche i supereroi più forti hanno bisogno di una mano. E per questo chiediamo a te un aiuto per assicurare ai loro bambini e alle loro comunità cibo, acqua, istruzione e cure mediche. Non c'è occasione migliore che la tua festa per dare una mano a un papà come te. Adotta un bambino a distanza, diventa il suo super papà!